Chiedono un intervento urgente da parte del Ministero del Lavoro e i sindacati dopo la notizia che per l'Inps la quarantena per contatto Covid non è più considerata malattia e che quindi non potrà più essere erogata per i casi avvenuti a partire dal settembre 2021. Un fulmine a ciel sereno che ha fatto scattare l'allarme tra lavoratori e aziende dal momento che l'emergenza sanitaria non è ancora finita. Come sottolinea Dino Perboni, segretario generale della CISL Asse del Po, l'Istituto di Previdenza non può avvenire meno a quello che dice la legge e pertanto sono in corso delle interlocuzioni con il Governo per fare chiarezza su questo delicato tema. Nel decreto legislativo dell'anno scorso il Governo ha approvato una norma che stabilisce che nel periodo della quarantena l'Inps deve riconoscere un'indennità quindi questo è un diritto che rimane ed è sancito da una norma giuridica quindi non è che l'Inps può dire o sentenziare che è venuto meno questo dispositivo legislativo. Si tratta del fatto che esattamente il 14 di agosto esce una comunicazione dell'Inps in quale indica che non ci sono le risorse a copertura di queste indennità. Innanzitutto fa specie che non ci sia stata un'informazione preventiva nei confronti del Governo del Ministro del Lavoro perché l'Inps fa riferimento esattamente al Ministero del Lavoro. L'altra cosa che fa specie è che queste informazioni debbono venire mediante stampa. Non può essere che il fatto che sono esaurite le risorse perché evidentemente si sono asciugate queste coperture economiche perché è stato molto l'afflusso non si ha più il diritto quindi deve essere a carico del lavoratore o del datore vuolo. Questo non sussiste perché è in contrario la norma. Due sono le principali richieste messe in campo a tutela dei lavoratori. Innanzitutto il Governo e anche il Ministero del Lavoro di far fronte a questa situazione prevedendo le necessarie coperture. Ma dall'altro chiediamo anche un tavolo di monitoraggio per quanto riguarda l'uso delle risorse e anche la loro allocazione in modo tale da non avere questi lanci di agenzie che mettono in fibrillazione i lavoratori e le aziende stesse.